Sono molto contento, ho trovato oggi un stadio caldissimo, questi due gol sono veramente contento anche per i tre punti e la vittoria. Ho visto che avevo un campo, sono andato, mi ha dato la palla bene, poi ho visto che arrivava il difensore del Napoli, quindi ho calciato di destra, poi è partita bene e poi è andata dentro. Grazie di destra, Fabio ha fatto molto bene a tenere questa palla, poi poteva forse calciare però mi ha visto da solo e me l'ha dato, io ho calciato di primo subito e è andata. Con Fabio mi trovo molto bene, ancora c'è da lavorare, da poco che giochiamo insieme, però lui è un grande attaccante, un grande giocatore e sono sicuro che possiamo fare molto bene. Dopo la partita dell'Udinese, penso che pochi pensavamo di fare questa partita oggi e bravi a noi, bravi al mister, abbiamo preparato molto bene e sì, adesso dobbiamo continuare così, penso che c'è ancora un po' di lavoro, però stasera eravamo la Sampdoria vera. Adesso c'è un po' di giocatori che vanno in nazionali, però frutteremo queste settimane per lavorare tatticamente e fisicamente e per trovare subito pronti le nuove partite.